L'Uccese contro Recanatese, Stadio, Porta, Elisa, due squadre che non stanno vivendo un bel momento di forma, due sconfitte consecutive per la squadra di casa, non vince da novembre invece la Recanatese con cinque sconfitte e tre pareggi. Nelle ultime otto partite, la zona play-out sempre più vicina a quella play-off, però ancora potenzialmente possibile. Inizia forte la squadra ospite, girata interessante di Carpani, attento Chiorra che alza in calcio d'angolo, inizia con coraggio la squadra ospite, ancora un pallone in profondità Melchiorri, uno contro tutti, si porta avanti il pallone, sterza soltanto, un grande intervento di Chiorra, lo separa dal gol del vantaggio. Minuto 27, inizia la partita della Lucchese, serpentina di Tumbarello, conclusione deviata con il destro, si allunga Mascolo che oggi gioca al posto di Meli, problema alla mano per il titolare della Recanatese. Cross di Quirini, girata di Rizzopinna, arriva l'uno a zero della Lucchese, sviluppo perfetto sulla destra, torna al gol, Rizzopinna aveva sbagliato un rigore contro il Sestri Levante. Quattrova la prima perla di una serata che sarà magica per lui, l'abbraccio con Quirini, quello con guadagni, uno a zero della Lucchese al minuto numero 32, insiste ancora la squadra di casa. Ancora Rizzopinna, imbucata, geniale per Yeboah che prende la mira e si divora il gol del 2 a zero, assist visionario però di Rizzopinna in totale transagonistica. Minuto numero 39, lo stesso Yeboah, piede perno, protegge il pallone, fa a spallate, si appoggia su Rizzopinna, che pesca, un gol bellissimo, bacino all'incrocio e 2 a zero, dito alla tempia per Rizzopinna. La rinascita della Lucchese passa dai piedi di questo gioiello e 2 a zero per la squadra di casa dopo un ottimo primo tempo, bellissimo. Il destro che si infila sotto l'incrocio, non può nulla, Mascolo, minuto 46 sul finale, al tramonto del primo tempo vicinissimo al Triss. Rizzopinna fa tutto da solo, se la sposta sul destro, calcia, il pallone finisce al lato della porta difesa da Mascolo. Primo tempo eccezionale per Rizzopinna, minuto 60, in profondità il pallone per Yeboah, lo protegge, calcia col destro e chiude la partita 3 a zero, secondo gol consecutivo per Yeboah, reazione della Lucchese dopo un periodo complicato, protegge sul Ricci, incrocia con il destro e partita in ghiaccio. Lucchetto alla partita, sembra tutto finito, passano pochi secondi, però c'è questo contatto a centrocampo, giallo per Tumbarello, protesta Fazzi che era stato ammonito poco prima, prende il secondo giallo e rischia di rimettere in partita l'area canatese con la Lucchese che resta in 10 uomini. Questo è il contatto falloso di Tumbarello, minuto 73, attacca, continua ad attaccare il solito Rizzopinna che arriva sul pallone, guarda la porta, ci pensa, sterza, vede, vuole calciare, trova l'angolo, ma trova soprattutto le mani di Mascolo oltre al palo. Minuto 81, profondità di sbuffo, il migliore dei suoi per Melchiorri che prova a riaccendere la speranza della Recanatese. Gol da attaccante vero per Melchiorri, l'ultimo a mollare nella squadra ospite, qua se la cava benissimo con Tiritiello, e poi allunga il mancino, supera Chiorra e riapre almeno parzialmente la partita. Minuto 86, la Recanatese attacca, si scopre in contropiede, continua il costante duello tra Yeboah e tutta la difesa ospite, passa ancora il 45, davanti a Mascolo si fa ipnotizzare, cerca il colpo da Fussal, comunque vince 3 a 1 la Lucchese che ritrova tre punti fondamentali.